vedete queste erano le case popolari stanno dietro però stanno attaccate al palazzo vedi quasi attaccato al palazzo solo fantastico pensa che poteva essere qua questo scende dal palazzo palazzo dei nobili e poi qua sotto esce si esce peccato la vegetazione certo ha fatto già un po' di danni parecchi danni però e poi chi sei ma tu chi sei i sogni d'accone lo scudiero e stiamo andando noi e tutte le armate a pugnali sarecini dritto all'armi e la valorosa calaliere che ci conduce scusa ma andiamo chi e chi sarebbe questo cavaliere come chi sarebbe brancalione da norcia è il nostro duce e noi lo seguitamio e voi chi siete i mori che sono venuti a conquistare il cauto no 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 ragazzo tranquillo siamo siamo dei turisti siamo venuti a visitare monterano ma visto che ti abbiamo incontrato vorremmo chiederti se sai delle feste che ci saranno qui il venti e il ventuno maggio sai dirci qualcosa è lo vero forastieri ci saranno grandi feste e rugze tra i cavalieri come i giochi per i più piccoli lo venti e lo ventuno de mario ah bene ragazzo grazie grazie per le informazioni ora li metti e ricordatevelo forastieri grazie per le informazioni ora li metti e ricordatevelo forastieri grazie per le informazioni grazie a tutti